Il Natale è stato assorbito, ora si attende di vedere le conseguenze del Capodanno. E' quanto ha riferito il Presidente della Provincia Arno Compaccia in Consiglio Provinciale in merito all'attuale diffusione della pandemia in Alto Adige. Esortando a continuare a rispettare le regole di gene, egli ha spiegato che si predisponevano i criteri in base ai quali introdurre disposizioni più severe da adottare in caso di peggioramento. L'assessore alla Sanità Thomas Wiedemann ha aggiunto che si effettuano oggi migliaia di test al giorno e che sono iniziate le vaccinazioni orientate in primis al personale medico assistenziale e agli over 80, mentre da Roma è arrivato il via libera anche ad altre categorie di rischio. Le opposizioni hanno chiesto maggior impegno nei ristori ed una campagna di sensibilizzazione sulle vaccinazioni. Dopo che il plenum ha dato il via libera alla nomina governativa di Thomas Mattà, consigliere di Stato, sono state trattate le proposte delle opposizioni. Respinte, tra le altre, le mozioni del Partito Democratico, liste civiche per un piano vaccinale e l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Della Sudirole Freiheit per interventi sulle banche affinché concedano differimenti di crediti. Di Enzian per la revoca delle restrizioni conseguenti alla pandemia. Del Movimento 5 Stelle per transitare i servizi delle amministrazioni locali sulla App.io. dei Freiheitlichen per un pacchetto di misure per attirare in alto adige personale infermieristico assistenziale. No anche al disegno di legge del Timca a tutela degli ospedali periferici. Secondo l'assessore Widman essi sono già stati potenziati. Accolta invece la proposta del Gruppo Verda finché la giunta riferisca in aula sul prossimo utilizzo del Recovery Fund e quella del Timca per accelerare la procedura di esproprio dei terreni necessari per collegare l'acciclabile di Laives alla rete provinciale. La proposta di alto adige nel cuore Fratelli d'Italia di punire il reato di surrogazione di maternità anche se commesso da un cittadino italiano in un paese straniero è stata sospesa dal proponente per trasformarla in progetto di legge. Nello spazio riservato alla maggioranza via libera alla proposta dell'SVP sostenuta dai Frei Heitigen di pianificare per tempo l'assistenza estiva all'infanzia coinvolgendo le associazioni e garantendo i fondi affinché i costi siano abbordabili e a quella dell'SVP per sostenere e diffondere l'iniziativa del Südtiroler Jugendring di votazioni ombra per giovani tra i 16 e i 18 anni parallelamente a tutte le elezioni ufficiali. Approvato infine con 18 sì, 1 no e 15 astensioni il disegno di legge della Giunta sul debito fuori bilancio a copertura di spese effettuate senza essere preventivate pari a 250 mila euro annui. Una cifra minima è stato detto rispetto al bilancio provinciale.